Nella sola giornata di ieri sono state convocate per la vaccinazione in Irpina 4.600 persone. 3.700 si sono vaccinate, 900 sono dovute ritornare a casa a mani vuote. O perché non avevano i titoli per poter ricevere il siero, nonostante quanto dichiarato sulla piattaforma regionale all'atto della prenotazione, o perché non avevano con sé la documentazione che attestasse lo status di caregiver o convivente di persona fragile, o perché hanno rifiutato il siero. Ma ad ogni rifiuto si moltiplicavano i ritardi e non sono mancati soprattutto nei centri vaccinali più grandi momenti di tensione. Sempre nella giornata di ieri sono cominciate le verifiche del nucleo antisofisticazione dei carabinieri che al campo coni di Avellino hanno acquisito documentazione relativa ai prenotati e dai vaccinati del giorno. I NAS vogliono verificare o escludere la presenza di illeciti. Saranno passate al setaccio le modalità di prenotazione sulla piattaforma Sinfonia, il ruolo dei medici di medicina generale, quello di controllo dell'ASL e le eventuali dichiarazioni mendaci dei singoli cittadini, perché non tutte le procedure sono uguali. E mentre per i fragili è il medico di famiglia ad attestare lo status di vulnerabilità, per conviventi e caregiver di persone fragili sono i singoli cittadini a presentare domanda, che potrebbero aver sbagliato materialmente la prenotazione o hanno voluto falsamente prenotarsi per non attendere le fasce d'età e quello che i carabinieri potranno appurare al termine delle indagini, che prevedono ovviamente interlocuzioni con la pubblica amministrazione. L'ipotesi è che nelle maglie della categoria fragili si siano inserite tante troppe persone che non ne avevano diritto. Da qui l'invito a chi viene convocato a portare con sé tutta la documentazione necessaria ad attestare i requisiti. Chi non li dovesse avere per mero errore sarà poi ricollocato nella fascia d'età e richiamato per la vaccinazione. La campagna prosegue insieme alle indagini.